Ciao a tutti Orchetti, sono Orcu Verde. Sto registrando questo video adesso che sono le due di notte per informarvi che gli sviluppatori di gioco hanno confermato che su Fortnite sarà presto in arrivo il fortatile. Come c'è scritto se vi recate sulle notizie dal menu di gioco, il nuovo forte portatile genera una rapida posizione difensiva all'impatto. Quindi questo fortatile non sarà un'arma, penso che dovremo piazzare il fortatile da qualche parte per farci costruire un fortino velocemente per difenderci. Non lo so ragazzi, lo vedremo comunque sia presto su Fortnite, probabilmente questo fortatile sarà aggiunto nel gioco giovedì insieme all'aggiornamento delle sfide del pass battaglia dell'ottava settimana. E se volete sapere in anticipo tutte le sfide del pass battaglia dell'ottava settimana che usciranno questo giovedì, guardatevi il video che lascerò il link nella descrizione di questo video. Quindi niente ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate riguardo questo fortatile che uscirà presto su Fortnite. Io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollice in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video, seguitemi sui social, sulla pagina Facebook, su Instagram e sul canale Telegram. Se volete entrate anche nel gruppo Telegram per parlare insieme, trovate tutti i link in descrizione. E da Orkoverde è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Bella!